La love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue anche adesso che si sono spenti i riflettori sul grande fratello VIP. Le testimonianze arrivano anche sui social, dove i due continuano ad essere molto attivi e condividono con i tantissimi fan che li seguono e li supportano, i diversi momenti della loro vita quotidiana assieme. Andrea e Rosalinda sono sempre molto attivi sui social, proprio oggi però sono risultati poco presenti perché entrambi erano molto occupati nelle loro faccende lavorative. Andrea era impegnato nel suo lavoro, lui fa l'agente immobiliare e proprio oggi ha annunciato di aver cambiato azienda, ma è rimasto nello stesso settore, mentre Rosalinda oggi era impegnata in un set fotografico. È proprio lei a pubblicare una foto dello staff e M3 fanno un aperitivo a fine shooting. Ciao!